Si chiama Taste of Arezzo il progetto che vede la collaborazione dell'azienda retina Borghini SRL con l'ufficio turismo dell'assessorato alla cultura del comune di Arezzo. L'iniziativa ha lo scopo di prolungare l'apertura del centro di accoglienza turistica Benvenuti ad Arezzo, in piazza della Libertà, per aprire le porte della città ai turisti. La mia azienda ha investito una piccola cifra per finanziare questa apertura, questo è un punto importantissimo per la città, ci passano decine di migliaia di visitatori, noi riteniamo che il turista debba essere ben accolto sin dall'inizio, quindi intanto aiutiamolo a trovare l'ufficio aperto. E poi abbiamo pensato anche di regalare un piccolo omaggio, una serie di nostri prodotti, sono piccole confezioni di mix di spezie per condire fondamentalmente la pasta o le bruschette, con cui appunto diciamo benvenuto al turista. Con il nostro contributo permettiamo, per quanto riguarda il mese di maggio, un'apertura di 6 ore, quindi dalle 11 al 17, tutti i weekend, dal venerdì al sabato. Dal primo di giugno l'apertura diventerà invece sempre di 6 ore, ma tutti i giorni a settimana, 7 giorni su 7. E noi continueremo a collaborare fino ad 8 settembre. L'anno scorso abbiamo regalato il gioco del buratto a 3.000 bambini di Arezzo e quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere invece i forestieri, diciamo così, con un'idea analoga, ovvero quella di mostrare come una piccola azienda con tanta fantasia e buona volontà possa essere d'aiuto. Speriamo che i nostri colleghi ci seguano in questo senso.